Ok, saluto a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono insieme a... Shadow Floyd E beh, avevo deciso di iniziare a sponsorizzare... Shadow Floyd, ciao E ho compiuto dove? Questa è la sala, no? Beh, quando hai scelto del Togana o... No, andiamo lì e stiamo con Spone Quando hai scelto del Togana o tu? Aspetta, aspetta, cosa? Parla un po' del Togana o tu? Io l'ho mai fatto per... Non dare a tenervi Non so per un posto di rossi Dare a tenervi Per... Poi per cosa ho avuto? Perché mi scrivo un viaggio da conoscere Quando non stai fermo E poi... Boh Non l'ho fatto 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 Cosa? Non l'ho fatto Non l'ho fatto Cosa? Allora, tutorial, let's play Su Minecraft Poi... Tf2 Se mi farò Global Agenda E poi cos'altro? Basta per adesso Inizio una serie su Crysis 2 Non so se qualcuno lo conosce Già Vabbè E su Point Black con te Credo Ah si è su Global Agenda Con l'occhiere Boh Vabbè Da quando sei Gli ultimi short? Oddio Da... La mia corte No perché... Aspetta, aspetta Ti spiego la storia Allora Io vi posti fermo un attimo Io avevo... Ho iniziato a fare i video del canale Ho iniziato con APB e Minecraft Insieme a un altro Che dopo ho lasciato a vedere E dopo è successo un casino E non l'ho più continuato Poi ho iniziato ad un po' Poi Ecco qua Poi 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 Sto moretti da vendere Vabbè 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 Sei qua Vi metterò il link in descrizione Di gli scelto Poi Ciao E Ecco E Ecco Sei fermo Vabbè 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 Dai Mi sta qua per tutto Ah no Vabbè Vabbè Oddio no No Si è spaccato Vabbè Comunque aspetta, aspetta, aspetta Il 14 luglio che è domani O se metterci Parco per le vacanza Stamio due settimane Certo Parco da provare il campezzo Stamio E perciò Opre dover rivedrete Sceglio Dopo due settimane Vabbè Ragazzi Per questa sponge Rivelazione Iniziale Già Già Eh sì Eh Ok no ok abbiamo parlato un po' di storia cosa? abbiamo parlato un po' di storia aspetta, pensavo di dire quanti anni hai con le cose lì cosa è bastardo cosa? cosa? cosa ripeti? hai indici anni? yes si 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 senti si senti aspetta io direi di finire così guarda guarda così vediamo che modello vabbè ragazzi direi che devo chiudermi a 10 scelto qui è tutto alla prossima sponsorizzazione ciao 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 Grazie a tutti.